Pronto? Pronto. Ciao. Ciao. Chi sei? Chi so? Io sono Tony. Io sono Tony. Tu chi sei? Tony pure io. Tony pure tu? Eh certo. Ma no. Che combinazione? Eh oh. La vita. Che mi racconti? Eh sei tu che chiami? So io che ti chiamo e ti chiedo che mi racconti? È proprio così. È strano eh? Eh. Però accade. Troppo spesso. Vabbè. Che mi dici tu? Allora. Eh oh. Se riflessi qui dal telefono l'altro? Un avviso di chiamata? Sì. Perché? Aspetta. Ti serve una penna? Aspetta. Ecco la penna. Tieni. Guarda e chiedi. Prendi. L'ho presa? L'ho presa. Bravo. Eh vabbè. E poi va. Sta scrivendo. Scusa. Hai visto? Aspetta che scrivo. Beato te che ricevi telefonate importanti. Ah scusa. Non devo parlare. È scritto eh? Parla tu. Parla tu. E che vuoi parlare? Parla tu. Bene bene. Eh? Senti? Il mio portone quanto parla no? Eh? So cacerone. Eh vabbè. Che vuoi fare? Io dico le parolacce. No che parolacce? No. No la penna non me la devi ridare. No la vuoi. Anche perché andare dal mio universo al tuo universo è facile ma viceversa è difficile. È vero. Due universi paralleli. Due universi paralleli. Non è. Non si incontrano mai. Reciproca la cosa. Sono paralleli. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Parlate. E a presto. Con se stessi. Un giorno ci incontreremo. Anche se siamo in due universi paralleli. Hai capito? Due universi paralleli. Bene. Ciao Tony. Ciao. 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 Ciao.